E dopo Marina Coollo siamo con l'altra protagonista di L'amore e bisogno di spazi, Martina Fuga, autrice del libro Emma, che è un libro autobiografico perché parla di tua figlia Emma, che è una ragazza con sindrome di Down. Allora, raccontavi prima sul palco che 18 rappresenta anche 18, una scatola dove all'interno ci sono 18 ricordi tra oggetti e non solo della vita di Emma. Puoi citarcene qualcuno, senza ovviamente togliere nulla la curiosità dei lettori? Sì, allora nella scatola, nella time capsule che regalo a Emma per il suo diciottesimo compleanno c'è un telefonino, per esempio, che era quello che io avevo quando lei è nata e quello in cui sono ancora conservati i messaggi che io e mio marito quella notte ci siamo scambiati. ovviamente c'era tutta la nostra preoccupazione, la nostra ansia anche sul futuro di Emma e delle domande su come sarebbe stato crescere una bambina con sindrome di Down. Ecco, adesso ha 18 anni appunto che sono i protagonisti di questo libro, come è cambiata anche come entra il vostro rapporto all'interno del libro? Beh, oggi Emma è una giovane donna con sindrome di Down, sì, ma è una giovane donna che si affaccia la vita con tutto quello che ogni diciottenne porta in sé, cioè la voglia di indipendenza, la voglia di scegliere, la voglia di costruirsi la propria vita e questo è un immaginario che quando lei è nata io non avevo e che oggi mi rende molto felice. Oggi sono molto più serena, oggi vivo la sua disabilità con molta più fiducia perché ho visto una donna crescere, una donna molto determinata, autonoma e che ha sradicato giorno dopo giorno tutti i miei pregiudizi e le mie basse aspettative. Un'altra cosa molto interessante era come ha accolto invece lei il libro, quindi vedersi rappresentata. Beh, Emma insomma è una ragazza che a 18 anni è piena del suo ego e della sua voglia di essere vista e quindi è molto fiera di questo racconto ma è stato anche un momento per noi molto bello di condivisione perché io ho sentito il dovere morale di leggere ogni pagina di questo libro prima di darlo alle stampe e quindi l'abbiamo condiviso pagina dopo pagina e lei ha anche scoperto, oltre che molti dei miei sentimenti che magari non ero riuscita a dirle, ma anche degli episodi della sua vita che lei non conosceva. Se c'è, qual è l'obiettivo di questo libro oltre a raccontare una storia o comunque qualcosa di bello? Beh, l'obiettivo è quello di fare cultura sul tema della disabilità, della sindrome di Down e di dare un orizzonte di possibilità perché di fatto quando è una tema io quello che ho cercato è storie, sono le storie che mi hanno salvato come mamma, come mamma piena di paure e quindi le storie mi hanno dato un orizzonte di possibilità, quindi quello che io spero è di dare un orizzonte di possibilità ad altri genitori, di persone con sindrome di Down e di far vedere un pezzo di mondo che non conoscono a chi invece la disabilità non ancora incontrata. Grazie mille, in bocca al lupo ancora complimenti. Grazie, ciao.